A Cerno è un piccolo centro solitamente utilizzato per le vacanze estive in montagna da molti residenti in provincia di Salerno. Una mena località collinare, fresca quanto basta per le serate estive, al profumo di fragoline di bosco e per sfuggire all'Afa di agosto al centro della città di Salerno. Ed ora A Cerno è invece al centro del traffico internazionale di droga disarticolato grazie all'operazione Servizium i cui dettagli sono stati resi noti nella conferenza stampa di oggi. Caratteristica dell'operazione non solo l'utilizzo di blackberry di difficile intercettazione ma anche il tipo di droga al centro del traffico internazionale, l'amnesia i cui dettagli e le caratteristiche sono state illustrate dal responsabile del laboratorio analisi stupefacenti dei carabinieri. Quello che è stato sequestrato di mevalenza è quella che in gergo viene dai acquirenti e spacciatori denominata amnesia, che si tratta di cannabis ad elevato contenuto di principio attivo. Questa viene ottenuta sia con particolari tecniche di coltivazione sia perché hanno modificato questa pianta. Quello che viene sempre riscontrato è questo continuo aumento del principio attivo della cannabis e dei suoi derivati, quindi dell'hashish e in molti campioni c'è un elevato tenore in delta 9 THC. Il costo è di poche decine di euro a dose. È una droga che si produce naturalmente con particolari tecniche di coltivazione come anche tecniche idroponiche, coltivazione all'interno di abitazioni, con particolari tecniche, particolari apparecchiature. La sostanza non viene coltivata nel terreno, bensì in opportuni soluzioni saline. Quindi le radici si nutrono. Scientificamente ci sono stati di gravi stati di alterazione psicotica, quali ansia, panico o comunque anche casi documentati di schizofrenia.